Sono Ivana e non mi piaceva il mio aspetto fisico avendo un seno molto piccolo ed ho deciso di fare questo intervento di mastoplastica additiva con il dottor Luciano conoscendolo tramite referenza di una persona in comune. Ho conosciuto Luciano fissando appuntamento con lui appena ho incontrato lui ho incontrato il dottore non ho avuto nessuna tipologia di preoccupazione rupi anzi sono stata molto serena nell'affrontare questo intervento mi è stato vicino il giorno dell'intervento in maniera molto professionale ma anche molto umana dopo l'intervento mi sono sentita subito benissimo non ho sentito nessun tipologia di dolore particolare infatti dopo le dimissioni dalla clinica sono andata direttamente dal pallocchiere a fare i capelli visto che stavo bene. Ringrazio comunque il dottore come anche Annalisa perché sono delle persone straordinarie ti stanno accanto passo passo non tanto non solo proprio in maniera professionale ma anche tanto umana e ad oggi è difficile trovare qualcosa del genere perché se ne trovano tanti di medici in giro anche bravi ma non umani in questa maniera e così si va a creare un rapporto molto familiare con con il dottor Perrone e quella che è la sua equip. Il risultato finale sono contentissima del risultato finale mi sento il mio agio con il mio corpo mi vedo bella e questa è la cosa che mi fa stare ancora meglio quindi consiglio a tutti vivamente il dottor Luciano Perrone. a a a Grazie a tutti.